Oh sì, continuo a raccontare. Oh, e dammi solo un secondo. Torno subito. Naomi, stai bene? I miei denti! Dove esserci qualcosa che posso usare. Ehi, quella signora ha una dentiera. Beh, mi serve. Yuhu! Oh, c'è qualcuno? Spero proprio che mi stia. Credo che vada bene. Mi dispiace tanto, David. Oh, scusa, aspetta. Non era niente. Torniamo a noi. Betty sta ancora dormendo? Ora le faccio uno scherzo. Tutti vogliono più capelli, giusto? Beh, forse non qui. Oh no, penso si stia svegliando. Ah, c'è mancato poco. E devo portare via tutti i gadget. Quei peli rimarranno dove stanno. Avevo tanto bisogno di fare un pisolino. Non dormivo così bene da secoli. Che cosa ho sopra il labbro? Ho qualcosa in faccia? Non può essere! Va tutto bene, li toglierò subito. Dov'è il mio rasoio? Aspetta, ho un'idea. Ma non c'erano un paio di forbici da queste parti? Oh! La mia scatola di cianfrusaglie. Ci deve essere qualcosa di utile qui. L'epilatore con filo elettrico. Credo che possa andare bene anche per i baffetti, sì. Tanto vale provarci. Sembra che i peli si stiano staccando, sì. La mia pelle è così secca oggi. Ma quella è la crema idratante di Naomi. È ora di ricambiare lo scherzetto. Ok. Devo fare anche la zona del petto. La pelle è così sensibile qui. Adesso mi farò due risette. Non mi rimane che prepararmi per stasera. Cosa sta spuntando sulla vestaglia? Peli sul petto? Com'è possibile? Com'è successo? Accidenti? È già mattina. Ho fatto il miglior sogno di sempre e sono pronta per la colazione. Che nottataccia. Immagino di dover alzarmi per forza. Diamoci da fare. Ora devo fare colazione. Bene. Sei già vestita. Perché? Oh, Naomi. Tu e la tua faccina assonnata. Va bene, va bene. Mi preparo. Il viola ti sta sempre bene. Sì. Almeno non devo indossare un reggiseno. Aspetta, ma l'ho messa al contrario. Ah, non riesco a vedere! Che paura! Ta-da! Immagino di dover sistemare questo cespuglio. Oh, quanti nodi! Accidenti, Betty. Ci hai messo pochissimo. Guarda che so fare anche io le trecce. Come si fanno? Oh, Naomi. Ehi, almeno ci ho provato. Lascia che ti aiuti. Ok, va bene. Non ti tocco, ho capito. Aspetta un momento. Questo gadget dovrebbe aiutarti. Prendi. Wow, sembra figo. Basta agganciare tre ciocche e tirarle attraverso le fessure così. Poi la macchina fa tutto il lavoro. Vedi, niente nodi. Oh, perché non ci aggiungiamo anche qualche perlina? E perché fermarsi qui? Possiamo fare tantissime trecce. Sì! Oh, perline dappertutto! Ora siamo amiche per le trecce. Possiamo andare su. La 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 la. Chi è fresca e pulita? Io. Uh-uh! Sì! Oh, sembra che io abbia messo il dito nella presa elettrica. Perché i miei capelli sono così crespi? Oh, aspetta un attimo. Ah? Che cosa hai in testa? Sembra più la proboscide di un elefante rosa. Solo che è attaccata alla tua testa. No, è solo un hack geniale per i capelli. Adesso le mie ciocche sono lisce come seta. Oh! Ma i miei capelli sono crespi e brutti. Ecco. Grazie. Ah, dunque vediamo. Si mette in testa, eh? Ah! Ah, deve essere bello stretto. Poi si infila nell'asciugacapelli. Ed ecco. Ora basta accenderlo. Wow, sento l'aria in testa. Ah! Vediamo se ha funzionato. Pronti? Partenza e lo tolgo. Accidenti! Sono fantastici! Come se avessi appena lasciato il parrucchiere. E in men che non si dica, sono anche vestita. Va bene, ragazza. Adesso usciamo. Penso che la macchina sia arrivata. Mi metto davanti? Ah, che belle emoji! Ehi, guarda qui. Leo si è tagliato i capelli. Che figo! Sì! Mandagli un selfie. Ok. Vediamolo. Cosa? Non sapevo di avere un mento così. Penso che sia colpa dell'angolazione. Cheese! Ecco. Incredibile! Peggio di prima! Penso che dovrò rifarmi il mento. No! Dammelo, ti aiuterò io. Basta usare un buon editor per le foto. E grazie a qualche piccolo aggiustamento... Cosa? Fidati. Adesso va meglio. Vedi? Penso che tu abbia bisogno di occhiali, ragazza. Vuoi fare la spiritosa, eh? Io mi sento veramente brutta. Oh, va tutto bene. Aspetta. Devo solo aggiungere qualche piccolo oggetto di scena. Ok, Naomi. Eccoti qui. Dai un'occhiata a questo di viso. Vuoi che la metta? Va bene. Sì, sì, infilatela. In questo modo? Bene. E ora che cosa faccio? Scusa, mi sento uguale a prima. Io me ne vado. Sembro un mostro. Sono un caso disperato. Lontano da me. Lontano da me. Calmati, calmati. Aspetta solo cinque ore, ok? Dai, su. Andiamo a sederci adesso. Oh, che ore sono? Penso che sia arrivato il momento di toglierla. Scusa. 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 Ehi. La mia faccia è diversa, sì. Per quanto tempo l'hai tenuta? No, no, no. Non farlo. Santo cielo. Che cosa ho creato? Oh, un messaggio. Cos'è esattamente? Oh, che paura. Credi gli sia piaciuto? Oh, perché mi ha bloccata? Credo di avere le lacrime incastrate negli occhi. Proviamo a truccarci. Questo potrebbe essere più difficile di quanto pensassi. No. Preso. Mi basterà un solo dito per farlo uscire. Oh, che pasticcio. Ah, che schifo. Lo applicherò direttamente sul viso. Ehi, sta funzionando. Bene, devo solo sfumarlo adesso. Spero che non sia troppo. Ok, penso si sia amalgamato. Ora per le labbra. Ecco qui. Mi devo sbrigare. Non deve sgocciolare. Proprio così. Credo che le mie labbra siano qui. ti sei guardata allo specchio. Assomiglia a un clown. Guardati. Che cosa ho fatto? va bene, non andare nel panico. Pulisciti, tipo, ovunque. Oh, che casino. Quello che ti serve è riuscire bene a sfumare il trucco. Wow, non sapevo che esistesse una cosa del genere. Metti il trucco sulla spugna e poi appoggiala contro il viso. Farà tutto il lavoro per te. Oh. È un vero salvavita, accidenti. Sono di nuovo bella. Oh, è per le labbra invece. Prova questo qui, aspetta. Adesso premi la bottiglia sulle labbra. Su, prova. Ok, vado allora. Oh, ha funzionato? Bene. Oh, mi stavo per dimenticare. Che stai facendo lì? Oh, le mie sopracciglia, vedi? Oh. È un caso disperato. Adoro questo nuovo colore delle unghie. Oh, chi sarà? Ah? Ehi? Oh, non può essere sul serio. Accidenti. Spero che non lasci una macchia. Fa niente, intanto finisco. Allora, che ti ha detto? Davvero? Ah. Oh, e tu che gli hai detto? Io sarei andata fuori di testa. Oh, no. Ops. Eh, vabbè. Sono a casa, tesoro. Oh, la mia maglia. Cosa diavolo hai combinato? Spero che tu abbia delle buone ragioni, Naomi. Ahem. Ora basta. Ti va di spiegare? È stato un incidente. La boccetta ha cominciato a levitare, poi si è rovesciata. Io non potevo crederci. E le ho detto di smetterla, ma non mi ha dato retta. È stranissimo. Storia pazzesca, vero? Che ci posso fare? Vieni con me. Ti mostrerò come possiamo risolvere questo problema. Gli incidenti capitano, ma dobbiamo essere preparati. D'ora in poi, usa questo. Non capisco. Oh, in questo modo? È giusto? Non essere ridicola. Devi metterci le dita dentro, sciocca. E terrà in piedi lo smalto. Oh, wow! Sarà molto più difficile rovesciarla in questo modo. E potrai concentrarti sulle tue unghie, sì. Vedi quanto è più facile? Sì, gli devi dire no. Lo farò per te se non lo fai tu. Mi hai sentito? Penso che il mio lavoro qui sia finito. È già mattina. Oh, accidenti. Che bel sonno ho fatto. Ma devo andare. Wow. Da quando ho tutti questi punti neri accidenti? Aiuto! No, 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 no! Naomi! Guarda la mia faccia, sono orribile! Aspetta! Adesso li scoppio tutti. No, 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 non farlo, aspetta. Ok. Devo avere qualcosa. Forse posso coprirli? Ecco, questo gadget li porterà via. E non lascia alcuna cicatrice. Vedi? Stanno già venendo via. Grazie! Sei fantastica! Avresti voluto conoscere prima questi trucchi e gadget di bellezza? Sempre meglio tardi che mai. Condividi il video con gli amici ed iscriviti al canale per altri video fantastici come questo qui. Ecco Che vuole a tutti!